Buonasera a tutti e benvenuti al 40esimo dell'ASA Castrovillari. In questo momento Antonello di Sport e Foto farà partire un breve video dell'ASA di Castrovillari e vorrei che fossi a conto con un applauso. Grazie. Grazie a tutti. 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 A questo punto vorrei chiamare un po' di ospiti. Il primo è il Presidente del Consiglio Comunale, il Dottor Mario Donadio. Un applauso. Vice Presidente del Presidente della Provincia di Cosa e il Dottor Giancarlo Lamenza. il barone De Paola che mi vuoi dire? ah ecco da questa parte qua va bene così? ok barone prego accomodatevi barone Gaitrano De Paola fiduciario funzionale Calabria barone scegliete voi dove accomodarvi dove preferite? prego ok chiamo adesso la professoressa Anna De Caio fiduciaria del CONI l'insegnere Ernesto Ferraro Ferraro presidente dell'automobile club di Cosenza prego Ernesto Rosario Iacquinta piedi raccomodati non ha bisogno di presentazione lo sarei io qui poi vorrei chiamare sul palco Alfonso Casillo non per ultimo un gradito ospite siciliano Totò Riolo vieni Totò vieni vieni perfetto Totò siediti pure lì allora Massimo dove sei? Massimo Milasi eccolo lì un applauso a Massimo Milasi prestende nell'ASAC di gastrovinia noi conciano il microfono per un breve benvenuto e subito dopo vogliamo salutarvi adesso vi salutiamo adesso? allora innanzitutto buonasera a tutti grazie per essere qui grazie agli ospiti che sicuramente ci diranno un po' di cose stasera l'emozione è stasera perché voglio dire 40 anni non è semplice però salutiamo ancora gli altri ospiti che sono venuti un po' da presto in sud me ne occupo io? prego allora vorrei salutare Gaetano Tropea presidente del Cosenza Corse dove sei Gaetano? facci vedere eccolo lì dottore Deviso lo salutiamo anche sta arrivando dovrebbe arrivare Salvatore Lipari presidente Loppido Mamertina Racing eccolo lì va eccolo lì perfetto Valentino Acampora dove è Valentino? eccolo lì presidente della scuderia Domenico Catanzariti per il team Mediterraneo eccolo lì Enzo Rizzo e Sergio Servidone per la mezza Motorsport tanti ospiti Giuseppe Zichari della scuderia Spacca dove è? ecco si sono nascosti bene Massimo vuoi continuare tu oppure chiamiamo no chiamiamo subito un carissimo amico di tuo padre carissimo amico di papà sì allora qui sul palco vorrei Marco Bruno che è un ospite eccolo lì che si sta alzando un applauso a Marco Bruno che vi dice di rinco che non ha tanto da dire e ci ha preparato solamente una una piccola diciamo poesia un piccolo ricordo per per ricordare papà venga venga si accordi si accordi la sala è tutta per lei fate un applauso buonasera a tutti sono trascorsi otto anni più vicino allora sono trascorsi otto anni e io questa sera voglio ricordare Vittorio come fosse oggi in memoria del grande contottiero Vittorio ci ha lasciati facendo un torto a tutti gli amici perché eri un amico e continuerai ad esserlo nell'anima di tutti coloro che ti hanno conosciuto ci hai privato del tuo sorriso a volte malizioso Vittorio avvertiamo la tua mancanza il tuo saper fare con amore sempre al centro di tutte le discussioni avevi sempre una parola giusta al momento giusto vinceva sempre la tua determinazione quanta pienezza alle manifestazioni i piloti correvano anche per te perché tu rappresentavi la guida spirituale Vittorio è qui con noi al momento della premiazione avevi una parola per tutti complimenti dicevi siete tutti vincitori l'importante è partecipare onorare la manifestazione e il club di appartenenza Vittorio sei stato grande ci mancherai attenti la nostra venuta per fare tante manifestazioni ma di quelle divine che il supremo Dio vivente protegga la tua anima ci mancherai Vittorio dire che lei è stato grande è poco mi permette una cosa posso guardate qua che cosa ha preparato per Vittorio veramente parole a questo no da l'anno questo applauso è per lei e per Vittorio grazie alla signora Minasi signora Concetta venga questo io sono sicuro che lei lo farà incorniciare ecco queste sono delle cose che non erano in programma che però fanno immensamente piacere io sono onorato di aver ascoltato le sue parole gentilissimo Vittorio ci manca ci mancherà sempre ma Vittorio ti sta ascoltando da lassù allora signor Bruno grazie mille di questo di questo suo pensiero grazie alla signora Minasi e prego si accomodi un applauso di nuovo signor Bruno sono dei momenti veramente che toccano il cuore ricordo di Vittorio Minasi veramente da un grande amico e adesso c'è un altro un altro amico che vuole ricordare Vittorio e ci delizierà ci enuncerà le origini dell'ASA chiamo sul palco l'avvocato Vincenzo Malomo un applauso avvocato a lei il microfono ci dica tutto grazie per dare un senso a questa bella serata per celebrare i 40 anni dell'ASA non a caso siamo a Morano perché a Morano si è tenuta poi l'ultima edizione della cronoscalata del Pollino se volessimo riprendere una frase famosa di Enzo Tortola potremmo dire dove eravamo rimasti proprio perché è stata l'ultima parendesi di Vittorio questa gara che noi abbiamo amato tanto che poi rappresenta anche un po' la sintesi del lavoro dell'ASA ASA è l'acronimo di Associazione Sportiva Automobilistica è un'associazione che nasce da un gruppo di amici di appassionati con a capo Vittorio con l'ACI di Cosenza sempre presente e le origini dell'ASA massimo si possono riportare agli anni fine anni 70 perché questo gruppo di amici con a capo Vittorio con la passione dei rally inizia un trascorso agonistico ma inizia anche Vittorio a farsi conoscere come organizzatore di manifestazioni sportive importanti erano gli anni della gloria della Lancia con le sue Vittorie la Lancia mitica HF poi successivamente la Lancia Stratos la Fiat con la Mirafiori con la 131 Mirafiori insomma nasce un fermento in quegli anni e molti piloti si avvicinano a questa disciplina stupenda che è il rally e nasce così da questo gruppo di amici supportati dall'ACI di Cosenza il rally del Pollino anno 1977 Vittorio è presente sia come organizzatore che come pilota si prosegue poi nel 1978 1979 ma ormai la pietra è lanciata questo gruppo di amici questo solalizio già funziona bene e poi si arriva all'1983 proprio con la fondazione dell'Asa il primo gioievo dell'Asa è proprio la crono scalata del Pollino su questa strada statale che collega Morano fino alla località campotenese Vittorio ha la capacità l'intuizione di vedere una gara di velocità in sanita erano gli anni anche della Coppa Sila perché la Coppa Sila lo sappiamo è stata sempre la gara più importante la gara più bella la gara più titolata ma la Coppa Sila negli anni 80 ha avuto anche delle difficoltà per cui la crono scalata del Pollino ha avuto il merito di riportare l'attenzione e la passione dei calabresi di nuovo sulle strade delle nostre montagne e quindi ha rinato l'interesse nuovamente per questo settore della velocità in sanita ma l'ASA non è soltanto la storia della crono scalata del Pollino l'ASA è una serie di iniziative in tante altre discipline come il settore della regolarità autostoriche risale nel 1989 la prima Coppa delle Calabrie e poi nel 1999 la Coppa delle Nevi quindi un settore quello della della velocità autostoriche che l'ASA promuove con successo e con tanti partecipanti e poi si arriva al settore degli slalom e qui arriviamo anche un po' al cuore della serata perché lo slalom anima anche questa serata non sta a me che non sono un addetto ai lavori sono un semplice appassionato come tanti dire che il settore slalom rappresenta un po' la nuova frontiera dell'automobilismo sportivo dilettandistico e neanche non dilettandistico per chi si avvicina a questa disciplina in maniera più professionale perché i dati parlano chiaro ormai è una disciplina in crescita con tanti piloti partecipanti le manifestazioni che si svolgono ormai dappertutto grazie anche all'impulso dell'ASA ma di tante scuderie del nostro territorio parlano di gare con tanti partecipanti con tanti piloti unitamente anche ad un fenomeno che nel 2023 si è manifestato e si registra anche un calo di presenza nel mondo delle salite non tocchiamo questo tasto no no ma è un dato di fatto e molti piloti si stanno riversando anche nel settore ma è la verità d'altra parte non si critica il mondo delle salite noi siamo amanti del mondo delle salite però c'è questa realtà però gli slalom stanno ottenendo alto interesse dell'ambiente nell'ambiente dei piloti non professionisti e l'ASA promuove anche una serie di manifestazioni interessanti in questo settore ricordiamo lo slalom cerchiara città di Calabria nel 1999 e poi una serie di manifestazioni importanti nella provincia grazie anche a due scuderie molto importanti della nostra provincia come la Cosenza Motorsport e la Sida Racing che hanno veramente dato tanto in questo settore si arriva agli anni 2000 sono anni difficili per l'ASA perché incontra anche delle difficoltà nell'organizzazione della crono scalata del Pollino ma grazie al sindaco De Bartolo sindaco di Morano nel 2006 si torna alla crono scalata del Pollino è un'edizione epica proprio uno dei protagonisti di quell'edizione che è Rosario Giacquinta 2006 con la vittoria di Simone Faccioli Rosario Giacquinta secondo e poi l'ultima edizione del 2009 appunto della crono scalata con il vincitore proprio Rosario Giacquinta nel 2011 l'ASA ritorna a organizzare il gare slalom con successo si ritorna ancora a questa formula con il mini slalom città di Castropilari e poi una serie di gare che si svolgono in tutta la provincia il 2006 il 2016 scusate è l'anno della dipartita di Vittorio Vittorio ci lascia ma fino all'ultimo io ho avuto la fortuna di averlo a fianco anche negli ultimi anni perché Vittorio aveva l'idea di realizzare un autodromo a Castrovilla e questo era il suo sogno la sua ambizione però non è riuscito in questo intento per motivi e cause che non gli appartenevano fino alla fine Vittorio aveva questo grande desiderio cioè era animato sempre dalla voglia di fare e di dare qualcosa al territorio e ha avuto anche la fortuna in questo suo cammino di trovare non solo valenti collaboratori che l'hanno sempre supportato perché Vittorio da solo non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non avesse avuto comunque persone che sono state sempre pronte ad aiutarlo ma lo stesso comune di Morano è stato un comune virtuoso perché è anche merito del comune di Morano se c'è stato poi un incremento e una voglia di fare che ha coinvolto tutta la provincia di Cosenza e poi forse è stato anche da traino per un rilancio della Coppa Sida perché con piacere registriamo che la Coppa Sida sta ritornando sta ritornando l'entusiasmo l'interesse e questo fa bene ovviamente al nostro ambiente nel 2018 il Memorial Vittorio Minasi per ricordare Vittorio e per ricordare questa questa associazione sempre presente oggi sono 40 anni di attività grazie anche a Massimo Minasi e Giuseppe Minasi che portano avanti più che degnamente il pensiero e l'opera di papà Vittorio non abbiamo dubbi che LASA continuerà ancora portando avanti questo progetto grandioso di Vittorio concludo dicendo che gli uomini non muoiono male quando gli uomini operano nel bene lasciano cose vere e concrete e tangibili continuano a vivere non con il corpo continuano a vivere i ricordi che hanno avuto la fortuna di conoscere e sono sicuro che il nome di Vittorio continuerà ancora grazie all'opera di Giuseppe di Massimo dell'ASA e di tutte le persone che collaborano con il tutto grazie avvocato grande parola gli uomini grandi non muoiono male grande parola bene dopo questo ricordo molto intenso dell'ASA di Castrovillari dove l'avvocato ci ha praticamente snocciolato dei numeri delle date che solo i più appassionati riescono a ricordare passiamo a qualcuno che l'ASA di Castrovillari la conosce bene è l'ultimo vincitore della crono scalata del Pollino quindi passo brevemente la parola a Rosario Iaquinta e vi chiedo di un applauso Rosario una volta davanti a un caffè tu mi hai confessato tu sei originario di Cosenza io sono campano sono nato a Napoli però ho sempre vissuto a Cosenza mi raccontavi mi raccontavi davanti a un caffè che sotto casa tua c'era un'officina dove preparavano macchine da corsa e da lì è partito tutto poi ti sei spostato a Castrovilla e hai conosciuto a Vittorio Minas e che è successo? ma no io da piccolo ho sempre sognato l'automobilismo e già gareggiavo da qualche mese diciamo qualche anno poi mi sono trasferito per motivi di lavoro nell'85 a Castrovillari e lì ho ritrovato questa associazione a capo Vittorio Minasi che io avevo conosciuto nella prima edizione della conoscalata del Pollino nel 1983 ritrovo questa associazione a capo Vittorio Minasi nell'85 e sa un po' ero un po' spiazzato perché venivo da grosse organizzazioni a Cosenza c'era una Cosenza forse a suo tempo direi c'è attualmente sì sì c'è attualmente venivo da una grossa organizzazione dicevo pensavo immaginavo chissà come saranno preparati qui ma avevo un po' qualche dubbio e poi invece conoscendo per benino Vittorio Minasi ho capito che era un grande competente ma non solo un grande organizzatore che ne sapeva una più dei loro dei miei fan e posettini ho scoperto delle persone molto competenti nel settore con una gran voglia di fare una competenza anche regolamentare io incontravo Vittorio anche per dei confronti tecnici e poi mi rendevo conto che lui effettivamente capiva e diceva cose sensate non era una persona che sparava luogo quello che pensava o come magari molte volte succede nel nostro ambiente dire delle cose così a volte anche insensate ma dettate comunque dalla passione lui era concreto sapeva di tutto dalle regole tecniche alle regole sportive ed era un grande uomo di sport questo lo devo riconoscere e una cosa simpatica la voglio ricordare di Vittorio perché dobbiamo ricordare le cose simpatiche le cose belle vissute in generale siamo qui per questo con una scalata del Pollino dal 1983 Vittorio ti porto io una bella automobile per aprire tutto il percorso no Rosario c'è la mia macchina la sua lanciatema blu io non la dimenticherò mai la macchina perché era la macchina che ha condotto la conoscalata del Pollino per per tutte le sue edizioni perché lui non ha mai voluto una vettura con l'autista per apripista aveva l'autista ma era la sua automobile con atti d'ufficio di tutte le maniere una volta ci sono capitato però per la stessa macchina faceva l'apertura la chiusura della conoscalata questa è una cosa simpaticissima che io non dimentico mai bene Rosario abbiamo parlato del passato però vorremmo sentire pure qualche tuo programma ma il programma guarda due parole nuovo super salita gt finalmente sono riuscito ad accasarmi in un team satellite Lamborghini pertanto gt super salita con la Lamborghini Ureca bene grazie Rosario tu non te ne sei accorto però è passato un bel appoglio ma l'amorista è l'ultimo assoluto del 2009 assolutamente sì l'ultimo assoluto della cronoscalata del Pollino grazie Rosario adesso passiamo a Alfonso Casillo prego Alfonello Alfonso allora vediamo che cosa che cos'è Lady Avrio di Alfonso Casillo no allora ti do il microfono Alfonso Casillo ha un grosso legame sia con la Calabria perché è stato tre volte campione regionale di slalom e per ben due volte ti è scappato il primo posto comunque sempre presente e tu hai un grosso legame con l'ASA di Castrovillari perché uno dei primi slalom che organizzò l'ASA di Castrovillari il famoso slalom di San Giorgio urbanese dove non è cosa brutta dirlo sono arrivati all'arrivo per x motivi 12 macchine allora parliamo di uno slalom con all'arrivo 12 macchine quello era il primo slalom dell'ASA di Castrovillari oggi parliamo di gare dell'ASA di Castrovillari con 100 e passa slalom con il trofeo Italia Slalom di Aldomonte quindi da quella prima gara tu hai creduto in Vittorio Minasi il massimo e sei venuto dalla Campania a onorare l'ASA di Castrovillari raccontaci un po' buonasera a tutti intanto quello che voglio ricordare di Vittorio è che oltre ad essere una persona che organizzava le cose in modo selettivo in modo ammirevole le organizzava con amore lui quando mi invitava mi chiamavano per la gara oppure quando facevamo le premiazioni c'era negli occhi di Vittorio l'amore per questo sport la dedizione proprio la passione mi stringeva la mano come se fosse come se fosse un figlio e così faceva con tutti gli altri piloti perché voglio dire insomma noi è vero che siamo materia prima per questo sport ma se non ci fossero organizzatori di livello del genere sopportati da tutti i collaboratori non avremo la possibilità di poterci divertire in tranquillità in serenità e in sicurezza soprattutto detto ciò ritornando alla gara di San Giorgio Albanese mi viene da ridere perché quella gara fu diciamo così un ribaltone insomma delle una gara organizzata e io decisi in quell'occasione di onorare perché insomma legato all'amicizia legato insomma al discorso delle organizzazioni decisi di andare e in quell'occasione chiamai anche altri colleghi piloti e me li tirai dietro anche se voglio dire insomma come prima gara fu diciamo così di poche macchine però fu una bellissima gara da lì è scattata diciamo così quella scintilla che oggi ringrazio Massimo e l'organizzazione diciamo così che è riuscito a mettere insieme tanti piloti per fare delle competizioni belle competizioni che fanno numero e oggi per fare numero sappiamo bene che ci vuole impegno sacrificio e contatto quindi insomma un grazie a loro che organizzano in questo modo per dare la possibilità a noi di divertirci legato alla Calabria sì insomma perché io voglio dire alla fine insomma oltre il fatto di avere una macchina costruita in Calabria abbiamo avuto la possibilità con i collaboratori di svilupparla in modo insomma che è arrivata ad avere un livello di competitività insomma abbastanza alto e credo penso e sono sicuro che continuerò a gareggiare in Calabria bene grazie Alfonso quindi adesso abbiamo sentito Rosario Iaquinta perché il legame con l'Asa è palese Alfonso Casillo però prego Antonello con un'altra foto qua sulla mia sinistra c'è un pilota che tutti conoscono se non di persona ma sicuramente di nome stiamo parlando di Totò Riolo eccolo lì vieni Totò che cosa c'entra Totò Riolo con l'Asa di Castro Villari uno che ha vinto ultimamente sei stato premiato in Sicilia per la vittoria leggo qua classe PC oltre 2000 di autostoriche uno che ha vinto rally slalom pista e sei stato tre volte vincitore della sì della gara più antica del mondo la Targa Florio la Targa Florio cosa c'entra con un percorso vincitore della Targa Florio con l'Asa di Castro Villari Massimo ti vuoi avvicinare un po' vieni 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 allora io intanto do il microfono al Totò Riolo che farà un breve saluto e poi interverrà Massimo e allora grazie grazie per questo invito è un piacere e un onore per me oggi essere qua sono stato invitato da Massimo con la quale concordiamo tanti parecchi impegni a livello sportivo e ci siamo ritrovati in diverse occasioni ed è stato per me un piacere quando Massimo mi ha chiesto ma verresti a stare mezza giornata con noi assolutamente sì perché quando parliamo di motosport per me che l'ho vissuto e continuo a viverlo a 360 gradi non può che farmi piacere non può che farmi piacere incontrare tanti amici che sono venuto a salutare a onorare e in più il fatto che ripeto questo nostro sport questo amato sport ci unisce e deve continuare a farlo perché la cosa più importante per me è questo unire significa crescere significa promuovere il nostro territorio io l'ho fatto per tanti anni per la Sicilia e continuo a farlo e quando ripeto mi chiamano per onorare o per promuovere il territorio nella quale ci troviamo non può che praticamente trovarmi assolutamente d'accordo Massimo allora grazie a Totò Riolo un grosso applauso forse Renato è stato anche breve nella sua presentazione perché se dovremmo enunciare tutte le vittorie oddio è dura è zoma non siamo non siamo un po' per questo abbastanza dovremmo stare qui forse tutta la serata parlavamo poco fa ti interroppo parlavamo poco fa con noi il carissimo amico Rosario e gli dicevo proprio questo che praticamente a oggi ho al mio attivo 485 gare 485 gare in 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 allora rally slalom pista salita che cosa ti manca nulla 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 no no nel velocità su terra velocità su terra assolutamente sì fatta anche quella è vinta oltretutto per cui le vittorie sono certe in tutti quanti i campi sì ho avuto di apprezzarlo in quasi tutti anche le prime edizioni non so come una macchina noleggiata rally se non erro rally mera noleggiata all'ultimo momento 100 torriolo va bene tutti quanti gli altri si guardavano e dice va bene ma se è 100 torriolo dice che andiamo a fare e è stato così perché ha vinto sì sì si eravamo anche a casa mia dai bisogna bisogna anche dirlo nel corso della serata avremmo pure da parlare delle madonie perché chiaramente ospitano la Targa Florio e la Targa Florio è la manifestazione più importante della Sicilia noi siamo relugi dalla premiazione di Taormina dove si è enunciata pure la la nuova data del Targa Florio e non a caso 10 di maggio 10-12 maggio 10-11 e 12 maggio quando noi qui avremo una una new entry del dello slalom qui a a Morano e quindi quest'anno non ci vediamo a Targa Florio però non voleva partecipare a Morano però se finisse il sabato una capatina la domenica si potrebbe anche fare allora vi racconto solo una cosa qua c'è un carissimo amico che è Nicola Cirrito con la quale abbiamo organizzato tantissime manifestazioni nella quale io qualcosina si si oltretutto faccio anche questo fra le altre cose e mi ricordo che in una edizione di uno slalom che sono stati penso una settantina che ne ho fatti di slalom vincendone tanti diciamo solo tanti vabbè in un'occasione che è stato lo slalom di Cerda praticamente casamina ho corso con due macchine e ho fatto primo e secondo assoluto conferma conferma abbiamo chiesto allora la possibilità di poter correre perché avevamo la possibilità di ritornare di nuovo alla partenza ed è stata una cosa stranissima particolarissima che comunque si è verificato solo quella volta perché se no poi qualcuno mi menava sì ora non si può più allora perché ho voluto qui Tottoriolo oltre ad essere come avete ben capito mio caro amico e lo ritrovo su tanti campi di gara su tante partenze ci vediamo ma perché qui a Morano 40 anni fa è iniziata nel 1983 appunto la prima cronoscalata del Pollino che partiva dal dal ponte per intenderci dalla metà del percorso che poi è stata la famosa cronoscalata del Pollino anche valida per il CVM con Asa Castrovillari ma perché Tottoriolo si sta impegnando soprattutto ed è impegnato nel campionato italiano velocità montagne autostoriche e purtroppo dobbiamo fare una una nota questa anche verso di sprone verso la federazione perché dal Lazio fino ad arrivare in Sicilia tutta questa zona è fuori diciamo competenza dalla velocità in salita autostorica questo perché non ci sono utenti non ci sono non ci sono piloti non vogliono scendere giù al sud noi al sud li accogliamo bene tu lo sai bene Sicilia e Calabria sicuramente hanno una forte unione oggi più che mai certamente potrebbe essere un come dire un piccolo sasso buttato lì per raccogliere i frutti che speriamo ti rispondo subito Massimo sai che io sono anche nella commissione rally e debbo dirti che anche se sono nella commissione rally oltre a fare rally faccio anche il campionato italiano salita autostorica primo perché mi piace primo perché ho vissuto quegli anni nella quale è partito il movimento nelle auto storiche e ti dico solo nel 2002 quando io vincevo con la Peugeot 306 Max la mia prima targa Florio iniziavo con la Porsche perché è stata la mia prima vettura con la quale ho iniziato la mia carriera automobilistica a correre le auto storiche per cui ti dico viene da molto lontano questa mia passione per le auto storiche il problema principale è che in questo momento in federazione ci sono due commissioni due commissioni che si che non riescono a colloquiare che è quella delle auto storiche e quella delle auto moderne salita moderna salita autostorica sono due cose che dovrebbero sulla carta essere assieme perché oggi stiamo vivendo secondo me il momento peggiore per quanto riguarda il campionato italiano salita autostoriche che era nato con un'idea totalmente diversa perché nel 2008 2009 quando io sono approdato nel campionato italiano salita autostoriche era un campionato che partiva con 120 130 vetture alla partenza ci siamo ridotti l'anno scorso alla Guarcino per dire che è qui vicino per capirci ma che hanno avuto la forza di poter continuare di avere 40 macchine alla partenza capisci che per un organizzatore e io lo sono perché come sai faccio un pochettino di tutto capisco quali sono le problematiche per un organizzatore io l'unica cosa di cui ti garantisco perché questa battaglia chiamiamola come vogliamo io l'ho fatta già dal 2014 quando ho realizzato la prima edizione della Florio Policetta che è una gara con per ricordare sempre l'amicizia che ci lega con Nicola Cirrito e con il team Parichè abbiamo realizzato la prima edizione di una manifestazione che doveva nascere e crescere per diventare una gara valida per il cambiamento italiano salita autostomica l'abbiamo ideata e realizzata solo ed esclusivamente per questo perché un posto particolare che si chiama Floriopoli che si chiamano le tribune di Cerda dalla quale tutto è partito nel 1906 perché vi volevo ricordare ma tutti penso che lo sappiate nel 1906 la prima edizione della Parca Florio è partita dalle tribune di Cerda o giù di lì comunque il motosport è partito da lì il motosport è nato perché noi deteniamo la gara più antica del mondo che è la Targa Florio per cui quando nel 2013 e 2014 ho cercato di realizzare e lo abbiamo fatto per 5 anni ma non siamo riusciti ad avere la prova valida per il campionato italiano salita questo che cosa significa significa tanto e significa poco attenzione perché continuare a insistere è una nostra caratteristica perché noi siamo quelli che non vogliamo assolutamente mai ti dico oggi come l'anno scorso hanno rimesso in calendario un'unica gara un'unica gara in Sicilia e voi sapete che comunque in Sicilia come voi qui in Calabria avete una cultura particolare sia per le salite sia per gli slalom ma penso che accanto alla salita moderna la salita storica porta solo ed esclusivamente un valore aggiunto perché intanto riportiamo in auge le venture che hanno fatto la storia di queste gare in Sicilia perché quando vedi una mosella a Pianove che oggi è una macchina chiaramente tramontata ma che continua comunque ad essere competitiva nelle vetture storiche io penso che tutti noi appassionati non possiamo che goderne di queste cose per cui quello che io ti dico è il tuo invito io lo recepisco e lo trasmetto come fosse cosa mia ma quello che invece vi esorto è quello di non mollare dobbiamo continuare perché non è possibile avere un campionato italiano che si svolge fra la Toscana e il Piemonte e continuare a chiamarlo campionato italiano io di questa cosa ne ho fatto una battaglia abbiamo abbiamo siamo riusciti un po' nell'intento qualche gara l'hanno tolta al in Toscana perché io gli dicevo presidente mi scusi ma qui facciamo un campionato italiano o facciamo un campionato tosco emiliano perché di questo si trattava facevano otto gare solo in Toscana e un'unica gara in Piemonte punto come se la Calabria non esistesse come se la Sicilia che ha un bel nutrito parco partenti non esistesse e con tutto ciò l'anno scorso si è riuscita ad avere due gare in Sicilia e vi dico abbiamo l'ottavo per avere queste due gare non significa ripeto nulla quest'anno ce l'hanno tolta ci hanno tolto la coppa di sera punto vi dico solo questo c'è solo la elice però hanno aperto alla Parcino che è nel Lazio io una cosa che vi posso garantire è quella continuiamo a promuovere e a pungere e questo lo dico al nostro grande grande parone che ha le possibilità e le ce li ha parone la prego la conosciamo molto bene ok sono loro le persone che in federazione debbono battere i pugni perché dobbiamo e abbiamo tutte le caratteristiche per avere delle gare come può essere Morano come può essere Lozzi come può essere dico ci sono comunque delle gare valide belle in Calabria come lo sono anche in Sicilia ma questo dobbiamo unire le forze questo vi esorto a farlo perché in me trovate praticamente una porta aperta scusatemi se mi sono la cosa mi scopla in prima persona lo so lo so bene il nostro intendo sarà proprio questo anche di promuovere questa nuova attività questa che non ci siamo mai impegnati sulla velocità in salita autostorica e io mi farò promotore di promuoverla anche al nord a tutti e cercare di portare più gente possibile a correre al momento in cui voi siete pronti e iscrivete al calendario una gara valida per il campionato italiano grazie grazie no ce l'ha ancora però tiralo fuori qual è il progetto il sogno del cassetto è quello di riprendere chiaramente è quello e poi io qui c'ho gli amministratori locali quindi la cronoscalata del Pollino ne parlerà Mario meglio di me perché noi siamo solamente gli esecutori materiali se non c'è la volontà delle istituzioni sia politiche che sportive chiaramente noi da organizzatori privati non andiamo da nessuna parte e quindi sicuramente l'appoggio deve essere deve venire dalla amministrazione comunale certamente ma dalle istituzioni dalla federazione quindi da acisport da A.C. Cosenza che da sempre ci ha collaborato e ci continua a collaborare e senz'altro le istituzioni quali la provincia di Cosenza il codice ovviamente ci guarda a tutti quanti noi dall'alto e il il progetto è quello riportare quella che era la cronoscalata del Pollino come la cronoscalata dentro di Cosenza e la cronoscalata di Cosenza e la cronoscalata di Cosenza nove chilometri e quindi unica salita partenza dal centro abitato di Morano Calvoli e ti garantisco che io sarò a Dio piacendo presente quello che volevo chiedere a Totò tu hai concorrente no 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 tu tu parteci mi sembra le potere così allora vuol dire che Rosario io a Quinta oltre al programma delle potere inserirà anche la cronoscalata del Pollino autostorica tu la dinamiche per lui ci pensiamo noi non è un problema perfetto ragazzi ci ho fatto ci ho fatto grazie anche Torriolo adesso Alfonso Casillo e Rosario Iacquinta se vi avvicinate tutte e tre qua perché c'è un piccolo presente da parte di Massimo Minasi ecco un piccolo ricordo per tutte e tre per la partecipazione al quarantesimo dell'Asa di Castorino il primo riconoscimento va a Rosario Iacquinta al pilota pluricampione italiano sempre presente nelle gare Asa Castorino Rosario e adesso è la volta invece di al pilota campano più vittorioso in terra calabra e questa è una frase sua Alfonso Casillo e chiaramente alla fine qui al pilota polivalente sempre più vittorioso in tutte le specialità del motosport Salvatore Totò Riolo avvicinatevi tutte e tre a favore del fotografo così montaliamo questo momento e ringraziamo tre grandi ma grandi veramente piloti che sono venuti a onorare l'Asa di Castorino grazie grazie a Donorio e a Rosario Iapinta bene abbiamo fatto divertire un po' i piloti ci hanno raccontato un po' cosa hanno fatto per quanto riguarda i collegamenti con l'Asa Castrovino qualcuno ci ha deliziato pure con più di un aneddoto vogliamo iniziare a chiamare qualche istituzione che è servito per introdurre i lavori anche per chiaramente non è proprio del del motosport del mondo del motosport ma che ci collabora sempre perché senza di loro le gare non si possono fare e chiamo qui vicino a me e cedo la parola a colui il quale si prende l'onere e l'onore di farci sistemare le strade come amministrazione provinciale e mio carissimo amico il vicepresidente di Castrovillari vicepresidente della provincia di Cosenza dottor Giancarlo La Mesa senza di voi gli assetti delle auto quindi sappiamo sì vabbè diciamo che con la tra virgolette diciamo perché voi comunque operate in tutta la provincia ma con la scusa diciamo sempre virgolettata delle gare anche noi normali utenti soffriamo del lavoro che fate lo devo dire che in questi anni nei precedenti anni avevate un ottimo un ottimo elemento certo certo che è un genio è un genio eccolo dove è eccolo lo conoscevi tutti grande appassionato già consigliere provinciale è uno dei più prolifici consigliere provinciale che la provincia di Cosenza abbiamo avuto un saluto a proposito anche a Dottor Coppola il sitaco di Altomonte questo dimostra quanto Vittorio Minasi si è stimato si è stato stimato quanto quanto non solo il mondo della velocità il mondo delle quattro ruote voglia omaggiare una persona che ha incarnato insomma l'ideale sportivo castroviderese per tanto tempo uno sport che poi è quello che più adrenalinico quello che più stimola insomma gli sportivi e quindi un memorial un memorial che non deve soltanto ricordare la persona ma un memorial che come dimostra la presenza lascia un'eredità importante di valori a questo mondo delle quattro ruote una serie di valori che devo dire sono incarnati perfettamente dai suoi due figli Giuseppe e Massimo con Giuseppe ancora più di Massimo Massimo mi perdoni ma con Giuseppe ho un affetto ancora più stretto essendo essendo insomma più o meno della stessa età io poco più grande di te è una persona appunto a cui dobbiamo effettivamente queste grandi manifestazioni che hanno portato l'usco al nostro territorio che hanno portato l'usco a Castrovillari che hanno portato l'usco a Morano che ci hanno resi appunto felici di appartenere a questa terra che dire la provincia di Cosenza certamente raccogliendo l'edità di Eugenio sicuramente la provincia di Cosenza garantirà insomma un percorso perfetto come dire un manto che sia degno di insomma questa grande gara un saluto da tutta la provincia naturalmente porto i saluti anche della Presidente la dottoressa Rosaria Sucurro ci ha tenuto insomma a dire che è un'appassionata di questo sport di questi sport motoristici dello slalom e che appunto si ma l'ha detto è vero si me l'ha detto e appunto porto i suoi saluti e gli omaggi in tutta quanta la provincia di Cosenza non mi dilungo gli argomenti sono stati molto più interessanti di quello che potrei dire io quindi una buona serata un omaggio a un grande uomo Vittorio Minasi e un imboccalupo ai suoi figli che degnamente stanno riportando lo sport motoristico in auge nel nostro territorio dopo una breve pausa grazie grazie le dottor la menza e io sono sicuro di una cosa che è il gen anche se adesso per adesso lo vediamo nelle retrovie secondo me le manderà una mail con un elenco di gare da qualche parte ne siamo felici intanto saluto il dottore Denisi che è arrivato adesso per la scuderia piloti per passione adesso mi avvicino io mi avvicino ce la facciamo Massimo mi avvicino io a una persona veramente che ogni volta che mi vede dice io non voglio parlare è il barone De Paolo io non lo faccio parlare al barone De Paolo io gli lascio il microfono e se vuole ci dice qualcosa del rapporto con Vittorio Minasi e anzitutto voglio salutare tutti specialmente la famiglia Minasi poi mi viene da ridere quando qualcuno dice io a Vittorio l'ho conosciuto io a Vittorio io a Vittorio l'ho conosciuto quando avevavo 17 anni tutte e due all'istituto agrario di Pagli eravate compagni di merende si ah 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 poi vorrei salutare tutti veramente tutti e se sono qua sono grazie alla famiglia Minasi io per loro dove c'è la famiglia Minasi io andrò sempre a Vittorio a Vittorio a Vittorio sicuramente onorato le parole di queste sue parole soprattutto ma ma che cosa avete detto allora ha detto in una maniera che è da capire ragazzi di 17 anni la combinando Massimo perdoni mi sto un po' incasinando con questi figli dov'è 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 bravo magari vediamo il comune di Morano un paio di gelati wireless la prossima va bene ok proseguiamo dopo il valore De Paola io vorrei chiamare la professoressa Anna De Gaio fiduciaria del Coni Calabria giusto? a lei la parola perché so che anche lei ha qualcosa da raccontarci fra lei e Vittorio Minasi Buonasera a tutti convenuti in questa bellissima manifestazione organizzata dalla famiglia Minasi e consentitemi un saluto alla signora Minasi che mi sempre emoziona e particolarmente non le voglio erare i figli di Vittorio Minasi perché comunque è una famiglia che dimostra di aver acquisito dal padre da Vittorio i valori dello sport e della vita e questo ci inorgoglisce anche a noi bene il rapporto con Vittorio io nasco da atleta della pallovolo da arbitro da fiduciario del Coni quindi nasce questo rapporto con una persona che amava lo sport e che mi ha dato anche lezioni di vita lui amava lo sport amava i motori ma amava soprattutto il turismo sportivo e credeva in questa in questa in questa sua caratteristica perché dice noi per rilanciare anche il Pollino e rilanciare anche questo territorio abbiamo necessità di manifestazione per rilanciare il turismo sportivo e quindi questo ha dato alla città di Castrovillari io sono di Castrovillari ma ha dato a tutto il territorio per la Brese e questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché credeva fortemente in questo valore e lo voglio dire anche come ex amministratore naturalmente consigliere comunale di Castrovillari di Opposizione forse dobbiamo fare ancora di più oltre a quello che abbiamo fatto e credere in questo settore dello sport come è fiduciare a Melconi porto il saluto a tutti gli sportivi e rispettiamo i valori dello sport perché comunque sono i valori della vita e rispetto delle regole rispetto della persona ci porta anche a rispettare il ruolo nelle istituzioni quindi bocca al lupo a tutti e buono sport professoressa che hai fatto un intervento favoroso però io so che ci tiene a darci una notizia e a chiamare chiamiamo mi posso permettere di chiamare prima io la persona non vuole chiamare lei sono lì a sorpresa allora proseguate proseguate anche come fiduciario Coni ma come responsabile provinciale dell'ASMES che mi onora e voglio anche dire dare questa notizia perché per l'anno 2022 il Coni ha conferito a Giuseppe Minasi la stella di bronzo come dirigente sportivo per i suoi meriti sportivi Giuseppe Minasi eccolo lì il soltanto il risultato sarà felice di questo risultato che ha come lavorato in bocca al lupo e lo auguro a tutti di ricevere la stella a merito per meriti sportivi dal Coni grazie professoressa grazie mille e fra un po' a seguire chiamo a seguire ci stiamo ascoltando fine era anche dalla dottoressa lei scusa se sono maleducato ma sarebbe opportuno darla anche ad Andrea Gambardella lo candideremo lo candideremo professoressa allora Andrea Gambardella Andrea Andrea stiamo parlando di te poi dici che sono io allora ti hanno in questo momento candidato a una stella del Coni al merito tu devi lavorare come hai lavorato fino adesso prospettive Andrea Gambardella posso chiamarti sul palco? no dopo dopo perché dopo facciamo dopo perché dopo deve parlare dopo deve parlare sei stato candidato pure alla stella al merito per questo ma poi mai dire mai non è bello mai dire mai non è così quello che auspico invece credo che sia dell'accordo è venuto con i meriti di Giuseppe che è la nostra federazione che in considerazione è questo per portarlo avanti con un calcio venerabile lo vedi che poi io ti devo chiamare aspetta che poi ti chiamo no dice Gambardella che sono io vedi non sono io vedi tutti auto o un calcio allora sicuramente avremo modo Andrea Gambardella facciamo una piccola anticipazione che stiamo parlando con Andrea no perché dopo non continueremo continueremo a parlare anche perché i ragazzi i piloti lo stanno aspettando bene bene dopo questa piccola parentesi io chiamo a parlare qui vicino a me il presidente dell'automobile club di Cosenza l'ingegnere Ernesto Ferraro Ernesto Ferraro presidente dell'automobile club di Cosenza dove l'automobile club agli albori dell'ASA Castrovillari si è attiva si è attivata affinché la rally del Pollino si potesse realizzare però ce l'ha la C di Cosenza io l'altro sono nato l'82 quindi non c'è ma c'era l'AC di Cosenza e tu in questo momento sei presidente quindi onore all'AC di Cosenza per il contributo alla nascita dell'ASA Castrovillari si buonasera a tutti quanti agli ospiti che sono sul palco e arricchiscono una serata che già è di per sé ricca di significato di gioia così come lo sport vuole perché ha detto bene prima la rappresentante del CONI questo è lo sport è gioia è felicità è anche regole è rispetto ed è lealtà soprattutto dicevano i greci l'arte della realtà è lo sport no è un motorsport ancora di più non ci sono mai nemici ma ci sono solo concorrenti che tra l'altro concorrono fra di loro cercando di fare in modo che l'altro possa dare il massimo per dimostrare il proprio valore quindi questa è la lezione di vita che lo sport ci dà che queste serate ci danno e poi c'è l'automobile club che come tutti gli automobiles club rappresenta un importante appartenente ma se il cuore delle gare sono i piloti questo non c'è dubbio a culo poi c'è la testa che sono gli organizzatori che ci mettono risorse non solo economiche ma anche mentali fisiche di tutto il tempo che poi è il vero valore della vita e poi c'è gli automobiles club che mettono i muscoli perché qualcuno che sostiene tutta la struttura ci deve essere quindi agli organizzatori va grande merito perché veramente impegnano la loro vita personale per fare in modo che i piloti si divertano che gareggino ma che anche gli appassionati possono godere di questa festa quindi merito all'ASA ma a tutti gli organizzatori per 40 anni vuol dire che il lavoro è stato continuo costante e c'è qualità questo è un dato oggettivo altrimenti non si arriva a raggiungere questi numeri bene Ernesto tu oltre se presidente dell'ACI di Cosenza e hai l'onere e l'onore di portare a compimento una grande manifestazione che è il centenario della Coppa SILA che si terrà a quest'anno qui c'è una grossa responsabilità più un onore devo dire la verità perché la Coppa SILA è di per sé un'istituzione a livello motoristico non nazionale poco dire nazionale ma internazionale come la Targa Florio diceva bene ma la Coppa SILA è lì è lì in modo diverso ma è lì cento anni voi pensate che la Coppa SILA nasce prima dell'automobile club l'automobile club nasce per organizzare la Coppa SILA quindi anche lì un numero di appassionati si riuniscono si riuniscono e fanno in modo che per portare avanti questa manifestazione cento anni anche qui un numero che fa impressione poche gare possono festeggiare durante cento anni forse la Trenico non lo so qualcuno ci sarà i siciliani hanno grande storia quindi sicuramente qualcuno quindi siamo gli uni speriamo di essere allora speriamo di continuare così solo all'altezza ma anche di avere la giusta la giusta visibilità perché poi quello che succede qua stasera è specchio di quella che è la realtà calabrese grande cuore sportivo per la regione calabria grande cuore sportivo per la provincia di Cosenza e per realtà come quella di Morano di Castrovillari che veramente sono un fiore all'occhiello a livello nazionale poche regioni la Sicilia forse è l'unica che veramente dà qualcosa in più ma perché ha una tradizione enorme che noi rispettiamo e a volte anche guardiamo la Sicilia come esempio da seguire ma la calabria riempie tutti i weekend di gare slalom salite tutte equamente importanti tutte equamente belle non ci sono gare diverse di scioglie diverse specialità diverse che ci danno emozioni diverse questa è la verità grazie Ernesto grazie a voi siete tutti segnati non si manca il centenario della compasiva tutti eh guardano tutti da un'altra parte no 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 c'è Antonello che già va filmato grazie grazie a voi grazie e adesso non per ultimo perché è il padrone di casa anche se lui questa sera sarà chiamato più volte ad intervenire su questo palco e salutiamo il sindaco Nicco De Bartolo che purtroppo per un'influenza non è potuto essere presente qui con noi ma ben rappresentato il comune di Morano Calabro dal presidente del consiglio comunale dottor Mario Donadio che è qui vicino a me e gli passiamo subito la parola e ripeto poi interverrà anche con parte del dell'amministrazione comunale che è presente in sala quindi io ti passo la parola giusto per un saluto iniziale ma tanto poi ci sarà da dire buonasera a tutti prometto di essere celere di non abusare ulteriormente della vostra pazienza ma oggi tocca a me l'onore e l'onore soprattutto di porgere a questa nutrita platea il saluto da parte dell'amministrazione e benvenuto nel mio straordinario paese che è uno dei borghi più belli d'Italia borghi identitari bandiera e potrei parlarne per ore mi perdonerete se non lo faccio ma perdonerete anche la mia emasi ma a conti fatti Morano è il mio più grande amore quindi capirete che nel parlarne l'emozione è facile porco i saluti del sindaco Bartolo che è assente del vice sindaco Maratei che è invece qui presente con noi che è uno degli uomini del fare uno di quelli che ha reso possibile il ritorno di quello di cui venne parlato uno di quelli che ci mette anima cuore impegno per permettere che alcune cose si realizzino uno di quelli indispensabili in un'amministrazione comunale Barone io non ho avuto la sua fortuna di conoscere Vittorio quindi vi ringrazio per il contributo che mi avete dato tutti perché grazie alle vostre parole è come se io avessi davanti a me un ritratto di Vittorio Minasi ed è vero quello che si diceva prima che le idee dei grandi uomini camminano sulle gambe nella testa nel cuore di coloro i quali ne raccoglono il testimone seppur pesante seppur importante quindi chi meglio di voi ne raccoglie il testimone di vostro padre di Giuseppe di Massimo e quindi del chiedervi l'ennesimo meritato applauso per Vittorio Minasi che fosse parallelamente diputato ai vostri che ne raccoglono il testimone lo fanno con passione impegno riduzione e coraggio e con la passione che serve la passione che è necessaria affinché si realizzino delle cose importanti ci sono delle foto nel foyer che raccontano una storia importante che quasi vanno tornare in mente diversi alcune ragioni che dicono che il presente e il futuro non sono altro che il segno di uno straordinario passato questo è vero ma io credo che invece il futuro appartenga a coloro i quali con passione decidono di mettersi al servizio della comunità del territorio come ha fatto Vittorio Prima come fanno oggi Massimo L'Asa e i tanti giorni di Monano che hanno scelto di fare della propria passione una missione di vita e li vedo qua seduti da Francesco Gaetano Carlo Carni e tutti quanti che si impegnano per fare in modo che il loro sogno o la loro passione diventi una realtà una realtà che ha delle ricadute importanti non solo per gli addetti al settore non solo per coloro i quali vivono come loro di questa passione ma anche per la comunità perché come dicevi prima per organizzare un evento del genere c'è bisogno di investire nelle infrastrutture e ringraziamo quindi Giancarlo Lamenza e attraverso lui la Presidente Sucur e l'ente provincia per destinare dei fondi affinché si possa investire nelle infrastrutture che servono per realizzare gli eventi sportivi che hanno una funzione importante quella di attrarre i turisti perché il turismo sportivo è un settore nel quale bisogna credere e investire affinché il sud possa finalmente compiere quel salto in avanti che che sogniamo perché nelle parole di voi tre io ho individuato l'orgoglio di un sud che non si arrende adesso le fanno io di coda che non si arrende a guardare che gli altri giochino la partita perché le eccellenze ci sono e perché queste eccellenze devono fare in modo che la nostra terra che il nostro meraviglioso sud Calabria, Sicilia Campania Puglia tutti essi possano effettivamente giocare la partita da protagonisti come meritano e quindi torno a quel sogno di cui avete parlato perché sarebbe semplice per me oggi visto che ci apprestiamo a votare quindi sarebbe semplice per me prendere un impegno importante ma siccome rispetto la mia comunità rispetto tutti voi qua non mi impegno politicamente istituzionalmente ma lo faccio politicamente io credo che i grandi eventi quelli che hanno portato l'ustro alla comunità meritino attenzione da parte delle istituzioni come stiamo facendo ora con questa nascente manifestazione nel nostro territorio faremo anche in futuro con tutte le associazioni che vorranno collaborare perché io devo ringraziare l'ASA Minasi per l'idea l'induzione e la passione devo però istituzionalmente anche ringraziare chi poi ha avuto anche il coraggio e la passione di portare avanti un'idea di averlo fatto con altrettanta professionalità e io credo che la collaborazione sia la chiave di volta affinché i nostri territori possano effettivamente competere con quella competizione toschepideana che di cui parlavamo prima non abbiamo nulla da invidiare a loro anzi abbiamo tanto 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 da dover far conoscere lo facciamo anche attraverso lo sport attraverso i motori a Polano scorre in tanti polanesi nelle vene la passione per lo sport quando si avvicinano questi eventi io vedo effettivamente un defermento nella nostra comunità quindi non mi dilungo ulteriormente vi ringrazio davvero di cuore Massimo vi ringrazio perché riuscite con la vostra passione a far innamorare di questo sport anche chi come me non è effettivamente uno che lo pratica grazie al vostro impegno e alla vostra passione sarò al vostro fianco istituzionalmente ma anche come tifosi e supporter grazie mille grazie grazie e tutti tifosi e supporter visto che abbiamo sentito in tanto e quindi e quindi ci sono qui in sala no aspetta beh non corre non corre adesso hai chiamato persona adesso devi stare qua devi stare qua allora io non prendo ordini oggi non faccio il direttore di gare lo fai tu ok vabbè prego prego posso dirti per oggi sì perché ti sveglio grazie no no lo specifico perché tu con le telecamere sei pericolosa alla partenza e quindi ti dobbiamo sempre tenere a base allora perché ho chiesto a Massimo c'è un piccolo ci sono tre piccoli pensieri per te che delle persone hanno sì esatto per questo quindi ti invito a metterti qua al centro e chiamo per primo Valentino Acampora Valentino Acampora è un piccolo pensiero per te Valentino hai deciso di portarci dalla tua campagna un piccolo pensiero per Massimo ti lascio il microfono buonasera a tutti era doveroso Massimo anche perché questa salita a Morano per me per la mia gioventura è stata è stata a pelle è stata fondamentale venivo da ragazzo prima di sposarmi sono stato qua con la mia futura mia moglie che diceva ma come è venerdì te ne vai a Morano te ne vai a Morano te ne vai a Morano io ti ho portato questa questa larga ricordo della scuola di Gesù perché lo meritate lo meritate tutti e sono un grande appassionato della Calabria della Sicilia del Sud e ti leggo giusto due parole ai cari amici dell'ASA Castrolilleri per il 40esimo anno di attività con immensa stima per la grande passione profusa nel tempo Scuderia Vesuvio Morano 21 febbraio 2024 24 febbraio 2020 grazie grazie a Valentino Cancara presidente della Scuderia Vesuvio grazie tanto ci rivediamo sul palco grazie grazie fermo qua sempre fermo chiamo un'altra persona chiamo Gaetano Tropea presidente del Cosenza Corse un po' di applausi Gaetano assolutamente sì avete da dire qualcosa a Massimo grazie Massimo la famiglia Minas che riconosco da sempre e come Cosenza Corse devono stare sempre presenti sempre li stavamo presenti perché meritano per quello che fanno verso il nostro sport poche tareole concise però che vengono dal cuore grazie Gaetano ecco allora precisiamo una cosa Gaetano Tropea aveva portato una targa che in questo momento non sappiamo sta arrivando ma non facciamo queste cose dai allora lo so io perché perché siccome Gaetano Tropea dovete sapere che come il barone non vuole salire sui palchi non vuole parlare e allora visto che non vuole parlare adesso starà qui sul palco con noi fino a che non trovano la targa ok veramente io lo so perfettamente dov'è va bene eccolo allora Gaetano Tropea consegna Massimo Minasi una targa del Cosenza Corse con tanta stima alla famiglia Minasi per i suoi 40 anni di attività nel nostro sport grazie Gaetano Tropea e grazie al Cosenza Corse sì 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 allora siccome la targa non si trovava c'è una terza targa vieni 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 Gaetano attenti è concesso dai questo è altro dai alla signora Minasi avevo portato un pensiero un po' reale venga se viene la signora Minasi la signora Minasi a cui viene consegnato questo splendido omaggio floreale da parte del Cosenza Corse e di Gaetano Tropea il momento viene immortalato grazie Gaetano Tropea e grazie alla signora Minasi ma signora non te ne no ti tocca ancora adesso si scusa perché non è in sala ma c'è un piccolo pensiero di Salvatore Trapasso per la New Generation Racing da parte di da consegnare a Massimo Minasi viene la ragazza nelle reci di Salvatore Trapasso che salutiamo e leggiamo allora per i 40 anni di attività dell'ASA Castrovillari a Massimo Minasi per l'impegno profuso in favore del nostro amato sport presidente Salvatore Trapasso ecco no aspetta allora hai ricevuto giuste riconoscimenti adesso posso dare posso contegnare qualche cosa posso si dai adesso dai allora i piloti che avevamo qui sono stati già omaggiati ma i 40 anni dell'ASA è un traguardo importante e io non me ne voglia nessuno ma la prima targa ricordo che voglio consegnare è al barone Gaetano De Paolo avete capito il paolo che non mi melate non mi melate allora allora grazie ho avuto l'onore l'onere di dirigere le gare di iniziare a dirigere le gare con lui a fianco con mio padre ma sicuramente in quella nel nel foyer del teatro c'è una foto che immortala il barone De Paolo nel 1983 che dava il via alla prima cronoscalata del Pollino l'impegno mio e dei ragazzi di Morano che sono qui in sala che hanno voluto che hanno voluto riportare qui sulla strada di Morano quest'anno iniziamo con il primo slalom del Pollino e io ci verrò io vengo alle sei e mezza sulla linea di partenza sì sì e poi lo facciamo parlare ancora non è che non ha ancora induito questa sera o non lo vuole perfetto senza altro ci saranno le istituzioni ma al ballone De Paolo devo consegnare un premio importante grazie premio alla carriera sportiva e alla valorizzazione del motosport in Calabria al barone Gaetano De Paolo grazie del signore poi Massimo allora non si può bene sta cosa grande grande direttore di gara il barone De Paolo vorrei raccontare una cosa perché comunque anche io ho compiuto 40 anni di licenza sportiva quest'anno barone non diciamo la gara barone direttore di gara io negli uffici sportivi dovevo presentare un reclamo contro un non vorrente benissimo attendete fuori adesso potete entrare il direttore vi deve parlare vado in ufficio lo trovo da solo io qui ti tiro due scaffe e vado a tenere a casa questo è il barone di Paolo personaggio unico il tuo barone va bene grazie scusate questo è il regolamento ok e adesso e sono di prescrizione ma non avevo ragione avevo intuito adesso consegna dei piatti dei piatti d'argento per i 40 anni dell'attività dell'ASA iniziamo dal vicepresidente della provincia di Cosenza dottor Carlo Lamenza venite tutti qua al centro così facciamo tutta la vota insieme presidente dell'automobile club di Cosenza ingegnere Ernesto Perdaro Anna De Gaio e il presidente del consiglio comunale di Morano Mario Donatio grazie per la presenza e grazie per aver partecipato ai 40 anni dell'ASA ma proseguiamo adesso con le altre premiazioni la scala è lunga Renato ci ha ci ha deliziato con questa scaletta ma possiamo proseguire tranquillamente con la presentazione del la presentazione del calendario calendario gare calendario gare 2024 dell'ASA Castrovillari eccolo qua un applauso Massimo perché abbiamo passato le luci ci fermiamo solo qua un po' movimentato dal microfono va bene così allora io Massimo vi vorrei fermare un attimo perché vedo in alto calendario gare 2024 ASA Castrovillari ma vedo anche 7 aprile 2024 test amendo amendo e qui incominciamo a chiamare chi fa parte della commissione slalom ed è di casa Andrea Gambardella vieni Andrea c'è anche un altro componente della commissione slalom ma chiaramente gli cede il passo perché c'è Valentino a Cambora che fa parte della commissione qua ci sono supervisori slalom c'è un parterre insomma importante Andrea è stato l'anno scorso vittima di un acquato ah sì sì stavo andando ad un altro argomento no non è un acquato perché è un acquato come lo definì lui sì noi abbiamo semplicemente proiettato dei bumeri c'era dottoressa andiamo semplicemente proiettato dei bumeri la Calabria dopo la Sicilia che non si tocca è la regione con i numeri più alti di slalom e abbiamo fatto una richiesta lecita sì di avere la seconda gara di campionato italiano slalom in Calabria e chi dovrà rivolgere questa richiesta il dottore Campotella quindi non c'è non c'è un concorrente della commissione poi trasmette in commissione li trovo dei colleghi presento le gare e devo dire che i requisiti dell'annuivente che è il campionato la gara scolica qui a me non c'è la condizione accettata quindi io sono portavozio quindi il mio compito è quello di portare queste informazioni che decimo giù così come vista l'accoglienza per Altomonte si è deciso di premiare Altomonte con la finale di trofeo slalom che si farà ad Altomonte comunque devo dire che il mio è un lavoro che si fa in maniera collegiale principalmente con la delegazione Calabria io vorrei ricordare che la delegazione Calabria è stata dal barone ma è fatta dagli automobili presenti io con loro interfaccio sempre quindi qualunque decisione viene condivisa come dice il presidente Ferrara dicendo noi siamo un gruppo e lavoriamo solo che sono discorsi le cose vanno male la colpe è mia se vanno bene la devo dire no assolutamente allora vi racconto permettimi che ti interrogo vi racconto una piccola cosa scusami Massimo mettiti a fianco a me c'è un aiuta in grigia da spostare però prima di interrombo io perché c'è un aiuta in grigia da spostare urgentemente ah ecco qui l'abbiamo sul palco quindi bene grazie allora vi racconto un piccolo aneddoto Gambardella Andrea dice sempre che noi abbiamo fatto un acquato no assolutamente non è stato un acquato è stata una richiesta no non è stato un acquato è stato un acquato no assolutamente abbiamo abbiamo presentato dei numeri abbiamo fatto una richiesta e quindi allora si è adoperato e come si dice ha raggiunto l'obiettivo allora Gambardella Andrea mi dice tu mi devi chiedere scusa perché mi hai fatto un acquato allora io ti chiedo pubblicamente e non solo io se tu ottieni questi risultati due gare di campionato italiano in Calabria la finale del trofeo Italia Slalom se tu ottieni questi risultati non solo io vi chiedo scusa ma penso tutti i piloti tutti facciamoci un applauso un applauso di Andrea Campanella i meriti porta a casa i tuoi meriti i meriti sai quali sono che la Calabria è la seconda regione d'Italia con molti soldi Valentino che è il mio collega sa benissimo in maniera proattiva come abbiamo discusso queste cose perché quando si proiettano le date della Calabria signori miei sono belli la Calabria anche questo capito? la Calabria io devo dire la verità quando ho parlato di questo sono orgoglioso perché da questo punto di vista noi diamo il nostro contributo alla nostra federazione essere una seconda regione e la prima è la Sicilia e non è da poco ma questo è un grazie a chi? grazie agli organizzatori grazie a voi e un'altra cosa permettetemi di dire come federazione gli enti locali perché io ho la fortuna di girare l'Italia perché sono stato anche referente per il campionato quindi ho a che fare con le istituzioni è l'unica regione che sono sempre presente credetemi quando si parla di Calabria quando si organizza qualcosa le istituzioni sono sempre presenti e devo dire che le gare automobilistiche portano turismo io sono stato in Artitalia sono in Est in Veneto e si parla con te corace credetemi sono volano anche per un turismo e se si riuscisse a funiare la gara con questo turismo io credo che veramente sia qualcosa di fondamentale perché è importante specialmente perché ho l'ospedale perché ho la fortuna di girare e conosco i paesi per le gare dicono come poi scendono io l'altro giorno non ricordo una gara sono in Porta Sardegna questo è importante quindi io credo che il lavoro che si sta facendo in Calabria per quest'unione è molto importante io vi ringrazio per avermi commentato l'altro guardo no no dove vai ancora non è finito allora il tratto veramente salutiamo Campardella e se le mie scuse sono servite io l'anno prossimo aspetto di parte neanche che ci porterai l'anno prossimo boh non ce lo dire non ce lo dire si è terminato si è terminato eh sì vabbè te lo faremo sapere che ci serve dai grazie un applauso allora prima prima che volate voi c'è il mio amico Ernesto che è pezzotto è davanzo ogni giorno ma tu non sai tu non sai una cosa perfati tu non sai una cosa no Ernesto Ferrara presidente dell'automobile club è il mio compaesano quindi e chi sa il grazie allora per tutto ciò che fa per qui è Asa Castovilla nei 40 anni dell'Asa ma sono certo che posso estendere questa targa di cotto ad Andrea Campardella da parte di tutti noi organizzatori che diamo già appuntamento al 23 marzo per la premiazione regionale del Challenge Slalom Calabria e della premiazione della delegazione regionale AC Sport e Karting e Fuoristrada abbiamo messo tutti insieme vi diamo appuntamento al T.O.T.E.L. alla Menzia Terme con tutti quanti pregherei gli organizzatori che sono in sala fatevi vedere alzatevi perché sto consegnando la targa che è dell'Asa Castovilla ma penso di accomunare tutto quanto il pensiero di voi organizzatori vi fai un applauso grazie grazie Andrea prenditi il tuo applauso e complimenti per il lavoro che hai fatto e non te l'abbiamo fatta guarda finta il barone il barone di Paola sentenziale ha detto che se succede qualcosa calabella colpo il tuo di nuovo un applauso di Andrea Gambardelli allora proseguiamo con la scaletta Renato mi mi dai la aspetta un attimo io stavo parlando poi è entrato Gambardelli sempre lui è entrato ho visto test slalom ad Amendolara sì test slalom a Amendolara è una novità voluta dalla commissione slalom sarà il primo test su strada aperto alle vetture chiaramente partecipanti poi allo slalom di Amendolara che sarà la settimana dopo vedo anche l'amministratore dove sono di Amendolara eccola lì Girolamo Mitidieri consigliere comunale di Amendolara che ci sta dando una forza una forte mano per realizzare quella che è lo slalom città di Amendolara valida quest'anno per la Coppa Italia apertura Coppa Italia quarta zona Massimo scusa che ti interrompo un attimo testa Mendolara io vengo dal carto quel poco che ho corso sapevo che era molto importante mettersi a punto per la gara del giorno dopo qua qualcuno dice testa Mendolara sappiamo che il percorso sarà in allestimento slalom ci saranno sei ore a disposizione dei piloti che vorranno provare qualcuno mi ha detto io mica mi posso mettere a girare sei ore per un test sempre non è questo il test non essendoci ordine di partenza non c'è nulla è come un po' quello che avviene nel rally con lo shakedown praticamente è la stessa cosa percorso allestito libero ognuno può salire quando vuole e può può fare bene e allora io ho qua vicino a me a Totoriolo chi più di lui allora Totò a me io sono ignorante in materia non so che cos'è un test tu hai messo la macchina a terra hai fatto lo shakedown la macchina funziona frena accelera devi andare a recuperare quei due o tre decimi al chilometro del tuo concorrente che non riesci cosa faresti in un test intanto è una novità di quest'anno la possibilità grazie anche alla commissione slalom e alla commissione salita che hanno chiesto già noi come rally lo sapete i test li facciamo regolarmente io con la mia associazione sono demandato per l'organizzazione per esempio dei test della Parga Florio per cui già a quattro anni che esplodiamo che esplodiamo questa tecnica in poche parole da quest'anno la commissione sia slalom sia salita hanno chiesto e ottenuto la possibilità di poter provare queste vetture in una configurazione di gara ma tu pilota intanto tu non sei pilota però però te rigo no 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 comunque fai conto per dirti che il nostro amico con il prototipo come io con il prototipo come il rosario come tutti coloro che corriamo con i prototipi tranne che andare a fare quattro giri in pista non abbiamo realmente la possibilità di testare le vetture da di velocità per cui lo si faceva solo ed esclusivamente per le auto da rally perché il mercoledì prima della targa organizziamo come ti dicevo per diversi piloti quasi tutti quelli che corrono con le vetture d'assoluto l'R5 e in quella occasione che cosa si fa si mette appunto la vettura ti parlo delle vetture moderne ma è la stessa cosa che succede per le vetture per i prototipi in poche parole mettiamo a terra la macchina provandola le diverse soluzioni le diverse soluzioni che poi useremo in gara questo per quanto riguardava il rally ripeto da quest'anno c'è stata data questa possibilità con l'iscrizione al calendario di questi test per poter provare e le macchina e le macchine che normalmente non possono circolare come questi della salita come tutte le vetture che corrono la maggior parte le vetture che corrono in salita non possono assolutamente circolare per cui non avevano la possibilità di poter mettere queste vetture a terra e provarle in questo caso si è data veramente una grande opportunità perché il nostro caro rosario andrà con il Alfonso andrà a testare proprio in una condizione di gara la vettura che praticamente userà la domenica dopo o in altre gare avere questa possibilità devo dire che è stata una grande grande opportunità per tutti coloro che corrono in salita perché a questi test puoi andare anche tu con il prototipo storico o che sia l'unica cosa che ti troverai in dirilli ma c'è anche la richiesta da parte della commissione salita per poter realizzare anche lì un test che già qualche cosa si è fatta con una grande grande richiesta e soprattutto da parte dei piloti è stata accolta con grande grande bene grazie ma alla fine la domanda diretta cosa si testa una convergenza una campanatura di assente non l'ha detto quindi perché qualcuno diceva io mica posso girare per sei ore no allora puoi girare per una ora puoi girare per dieci minuti da un momento in cui pensate la macchina sia a posto perfetto quindi sapete che cosa dovete fare ad Amendolara Massimo allora Amendolara stavamo parlando di Amendolara quindi qui con noi è il consigliere comunale di Amendolara Girolamo Mitidieri lo invito sul palco per salutarlo stanno incominciando ad annoiare Renato vedi non applauso vedi sono tutti i bambini ammuntalisti io voglio vedere quando presentiamo quando presentiamo la gara di Morano allora Girolamo ci lega una profonda amicizia il quarto anno che saremo ad Amendolara tra quarto ottenuto avete chiesto la Coppa Italia Coppa Italia ottenuta percorso ben asfaltato grazie alla provincia di Posenza ottimo lavoro dal buon Eugenio Aceto parola a te buonasera buonasera a tutti innanzitutto Massimo porto gli auguri da parte di tutta l'amministrazione per questo traguardo importante dell'Asia Castrovide poi vorrei ringraziarti vorrei ringraziarti perché abbiamo mantenuto una promessa fatta a un gran signore a cui se mi permetti vorrei fare un grande applauso per il nostro sindaco che è un anno fa c'è un grande applauso che è un grande applauso siamo partiti da un slalom poi nel giro di due anni siamo riusciti a portarlo a slalom e adesso finalmente è Coppa Italia ti ringrazio grazie per la collaborazione da parte nostra per quest'anno ci sarà poi per l'anno prossimo chissà visto che ci saranno le preelezioni anche da noi e un grazie speciale va anche al nostro pilota Giuseppe che ogni anno allestisce il percorso grazie e vi aspetto il 13 e il 14 settembre certo no ci aspetti già il 7 perché abbiamo il 7 quindi abbiamo una settimana che staremo insieme grazie questa è una tag per la fattiva collaborazione che realmente c'è ad Amendolara e grazie a Giuseppe Rechia vero promotore e vero fautore del slalom città di Amendolara grazie procediamo ovviamente procediamo con il secondo slalom città di Cellara ma non ci sono amministratori però ci sono dei grandi amici di Cellara tutta quanta la famiglia Covello ben rappresentata a questo punto entriamo già nel vivo di alcune premiazioni dall'unica lady che ci onora nelle gare dell'ASA a Castrovillari una lady volante la chiamano tutte io la chiamo Emilia Covello grazie che raggiungi sul palco perché come al solito si è arrivati in titancio però ed è giusto ed è giusto per le varie opportunità anche perché Anna è anche una 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 persona che occupa un posto di tutto rispetto presidente della commissione dell'opportunità della regione Calabria prego Anna ed è giusto che sia premiata da te Emilia Covello non è la solita targa è una cosa diversa un grande onore come presidente della commissione della regione Calabria a premiare una donna viva le donne forse Mariolino ci dice qualcosa non ci piace più questa parola non ci piace più buonasera a tutti a tutti i piloti tutti i amici al barone alla dottoressa e alle vicepresidenti allora innanzitutto vorrei ringraziare Natalia Minasi perché mi ha dato oltre alla passione insita in me da quando ero piccolo mi ha fatto prendere il primo patentino Vittorio Minasi che ho conosciuto sempre presente 25 anni fa a San Basile e questa è una cosa che io sono fiero e sono molto fiero di avere a che fare con Massimo Minasi la persona che ho sempre rispettato e creduto e non a caso ho portato nel mio territorio Torrano Castello non lo so non perché io sia un appassionato ma per lo sviluppo del territorio come hanno detto tutte le persone presenti in sala perché queste gare oltretutto sono belle per lo sport ma io qui mi sento credetemi è una famiglia una famiglia largata questa perché lo sport è questo e una cosa voglio dire voglio riportare ancora a Torrano lo svalo Sartano ripreso dopo 27 anni visto che ho fatto tesoro di ciò che ha detto il signor Totoriolo voglio portare a Torrano perché Torrano è un paese piccolo ma molto storico una salita storica la salita dell'andica Lampezia perché Torrano così significativamente e spero di farlo di vero onore di avere Totoriolo l'amico immancabile del campano e l'amico veramente fraterno che mi ha vestito la prima volta per la prima tuta Rosalia Quinta grazie grazie veramente di cuore e di aspettare l'11 agosto per festeggiare insieme e per prepararci il per agosto quindi sarà una festa dello sport grazie a tutti e complimenti per ciò che va grazie Massimo di tutto veramente e questo va a te il ringraziamento dell'ASA 40 anni di attività a Mariolino che adesso rappresenta il comune di Torrano i saluti dalla diciamo tutta la consigliatura comunale del sindaco che non è presente purtroppo per altre motivazioni però sicuramente quest'anno ci saranno le elezioni non so se per la parte di questa tornata elettorale però non mancherò sicuramente l'organizzazione non sarò magari nelle veste di presente del consiglio ma sarò come organizzatore e forse sarà per la prima volta che possa prendere parte alla gara perché sono 5 edizioni che si fanno a Torrano ho preso parte per dare manforte all'amico Massimo e all'aiuto pure al mio fratello che mi aiuta moltissimo con tutti i ragazzi del paese per la riuscita buonissima dalle manifestazioni poi una cosa voglio dire visto che qui abbiamo i rappresentanti della provincia di Cosenza il vicepresidente di aiutarci per le strade perché le strade ci servono sì per questa passione ma ci servono pure per la sicurezza ordinaria questo dico all'amministratore perché faccio la calabria lungo e largo vicino l'Italia aiutandici nei territori perché c'è un massismo trentennale quindi devo chiedere la mente cortesemente di darci una mano scusate se intervengo ma devo spezzare la macchia a favore della provincia ci trasferiscono poco meno di 3.000 euro a chilometro con il quale dobbiamo fare la manutenzione ordinaria è una conclusione straordinaria lo sgombero neve la pulizia delle erbacce credetemi è una cifra veramente che ci costringe a scegliere dove fare la manutenzione e dove è più necessario farla credetemi facciamo i salti mortali con l'abnegazione anche delle aziende che spesso e volentieri lavorano sotto costo per fornire i servizi quindi facciamo il massimo che possiamo credeteci grazie mille e grazie grazie e proseguiamo e proseguiamo con Slalom di Altomonte e sì Quinto Slalom città di Altomonte finale nazionale trofei Slalom AC Sport vedo il sindaco Gian Pietro Coppola che ci ha raggiunto nonostante gli impegni che aveva ma è voluto essere qui presente perché Altomonte è stata premiata come giusto che sia come migliore gara dei trofei nazionali e quindi premiati anche ad opera del caro amico Andrea Gambardella che ha promosso e ha voluto la finale nazionale dei trofei Slalom d'Italia quindi siamo in capo all'Italia per lo Slalom ma sia un traguardo importante in soli cinque anni Altomonte ha risposto bene parola al sindaco grazie grazie buonasera a tutti e intanto i primi auguri vanno a Rasmus Castrodillari e alla figura di Vittorio Minasi per la quale vi chiedo plennesimo ma sempre meritato e mai scontato applauso per gli altri di 40 anni e questa sera ho un intervento soprattutto di salute e di ringraziamento e poi di vivissimo economio e di complimenti alla manina che oggi ci ospita caro Presidente io vi sento stasera di essere nella Sanremo dello sport automobilistico per le tante autonevoli presenze Giancarlo vicepresidente della provincia di Cosenza Anna De Gaio amica di tempi non sospetti rappresentante del CONI rappresentante della commissione per le opportunità della regione Calabria il barone De Paola che io conosco da bimbo quando andavo a visitare il museo delle carrozze di famiglia che era del cugino e ho conosciuto lui anche in qualche occasione automobilistica a Catanzaro e così via dicendo è andato via Ernesto Ferrara e da questa parte gli illustri piloti il nostro collega amministratore grazie a tutti soprattutto grazie ad ASA Castrovillari e a tutte quante le autorità del mondo dello sport automobilistico il rapido successo della gara di Altomonte è dovuto non soltanto alla nostra location che cerca ogni anno di fare il meglio possibile e in proposito sono qui con me e ringrazio tanto per il loro impegno Giuseppe Cattarelli che è il nostro delegato allo sport Emilia Romeo che è una donna è assessore a tutta una serie di cose ma in questo caso assessore alle varie opportunità e ai giovani ed è stata anche lei che ha spinto tantissimo perché all'Altomonte si facesse questa gara il modo bello in cui la gara si svolge è dovuto anche alla presenza di una associazione di volontari estremamente in gamba e poi mi si è consentito anche salutare i piloti di Altomonte sono quattro giovani piloti ricordo Mario Franco ricordo Giuseppe Porrelli ricordo Pasquale Fuscaldo da ultimo ma non per ultimo Ottaviano Verta perché legata alla gara di Altomonte per volontà di ASA c'è anche il trofeo Mario Verta che è stato uno dei precursori dello sport automobilistico all'Altomonte per il quale vi chiedo un applauso ma credo che fosse stato anche uno dei piloti della presenza di Corossini e di San Marco quindi noi ci saremo cinque dovremo una manifestazione ancora più importante in questa occasione ci permetteremo anche noi all'Altomonte di festeggiare i 40 anni di ASA e come fece madre Teresa di Calcutta con Papa Giovanni Paolo II a trovare un'occasione di un suo compleanno e gli disse ti ho portato un regalo e il Papa gli disse che regalo mi hai portato vieni vicino a me gli fece aprire il balcone su piazza San Pietro e gli fece vedere un gruppo di poveri gli disse ti ho portato dai lavoro questi sono i poveri di Roma apri per loro una mensa perché hanno bisogno di un posto dove poter mangiare io gli ho portato del lavoro perché mercoledì la giunta comunale di Altomonte delibera l'istituzione come avevamo detto e preso impegno nell'ultima edizione della gara di Altomonte l'istituzione del trofeo Vincenzo Fuscaudo che farà credo particolarmente piacere agli alfisti l'istituzione di interazione del Pollino e quindi sul parere delle parole dopo di che grande 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 piacere che la crosta calata del Pollino rinasca con un altro nome con lo slavo e benvenuti nella nostra famiglia grazie grazie a voi la targa ricordo dei 40 anni dell'ASA al sindaco di Altomonte grazie 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 Massimo manca una gara e una new entry allora manca una gara e eccola lì ed eccola lì il manifesto ufficiale del primo slalom del Pollino e quindi qui al centro del palco voglio Mario Donadio con tutto il gruppo di di Morano li incominciamo a chiamare Francesco Schifino ragazzi Carmine Roberti Gaetano Argentano e Carlo Argentano i ragazzi di Castrovillari Antonio Giano e Paolo Scarpelli Fabio Russo Mario Prango Francesco Di Diego Carmine Paffa e Mattia Esposito insieme a me con il vice sindaco di Morano Pasquale Maradei il palco è vostro questi ragazzi qua con la passione hanno chiesto e ottenuto il primo slalom di Morano eccoli qua già l'applauso già l'applauso li avete fatto vada un attimo hanno preso un grossissimo impegno anche una grossa responsabilità perché fino adesso loro vedevano solo la parte ludica dello slalom in questo momento vedranno anche come si fatica dentro slalom un applauso Massimo vai e allora con questa squadra che presentiamo ufficialmente il primo slalom del Pollino abbiamo un obiettivo che non diciamo pescaramanzia ma l'avete capito tutti sicuramente qui vicino a me Pasquale Maradei che ci lega a un'amicizia fraterna e vendennale ti tocca parlare a questo punto perché Mario ha fatto la parte istituzionale tu fai la parte diciamo amichevole dell'ASA perché me lo posso permettere perché sei stato diciamo tra coloro i quali hanno voluto fortemente una ripresa nel 2006 oggi sei qua a fianco a me papà purtroppo non c'è più ma due parole ti spettano pure altri diritti due parole perché il suo collega ha preso tanto tempo assolutamente buonasera a tutti è acceso buonasera a tutti sì soltanto due parole perché naturalmente già il presidente del consiglio ha fatto già i saluti istituzionali io faccio i saluti a tutti alla sala completa i piloti il nostro amico di Castro Villari che è qui presente e la politica pure che cosa succede succede che sì è vero è un'amicizia ventennale voi dovete sapere che circa venti anni fa vedevo tre persone camminare in un corridoio vicino alla stanza del sindaco e andavano avanti indietro avanti indietro per farla breve fino a che riusciva a capire che cosa facevano la signora saluto la signora che non si ricorda di me ma sono venuta tantissime volte a casa vostra insieme a Vittorio per cercare di capire di che cosa stavamo parlando per far partire questa benedetta crono scalata del Pollini perché dovete sapere che nel 2001 con la legge Bassanini il decentramento sono passate le strade dall'ANAS dallo Stato io sono un ingegnere dell'ANAS quindi per questo vi posso ben dire che abbiamo avuto qualche problematica di questo sono passate alla provincia e abbiamo dovuto fare i salti mortali per far capire alla provincia di Cosenza che volevamo fare quella gara e all'epoca vi posso dire che lo sport non ha colore politico e attenzione perché io in quel momento sono andato alla provincia di Cosenza per andare a parlare con l'allora Presidente Oliverio che cosa succede che io volevo a tutti i costi che questa manifestazione si doveva fare ci siamo riusciti e mi è rimasta una cosa impressa vice sindaco ma lei è sicuro che vuole fare questa gara ma certo che la voglio fare però si deve prendere la strada e io sono rimasto ma come lei si deve prendere la strada ma lo facciamo così gli ho detto mi prendo la strada il tempo strettamente necessario per la manifestazione sportiva e poi però te la ridò lui è rimasto si pensava gli dicevo di no ma deve parlare con qualcuno non deve parlare con nessuno potete già deliberare come provincia io delibero come comune alla fine ci sono riusciti ci sono riuscito e alla fine mi hanno dato anche un contributo di 20.000 euro questo che cosa voglio dire quando hanno visto delle persone che eravamo decisi per quella manifestazione che Massimo l'abbiamo fatto dove sei l'abbiamo fatto a novembre quando abbiamo finito di quella manifestazione si è messo pure a grandinare se ti ricordi quindi la voglia che c'era di riaprire questo bellissimo momento di cercare di portare avanti questa manifestazione e su questo poi tutto quello che c'è stato dietro nel senso che siamo riusciti nel corso degli anni anche perché quello che la provincia scusami Giancarlo se dico così non aveva capito allora che cosa non aveva capito non aveva capito che comunque come diceva qui qualcuno prima qualche pilota c'è comunque un rientro ed è un rientro di immagine sia per il territorio di Morano sia per la provincia di Cosenza perché avere una edizione una gara di questo di questo livello qui a Morano e di riprenderla era una cosa veramente veramente bella e anche invidiabile da parte di tantissime di tantissime regioni poi magari le cose sono andate come sono andate però io la faccio breve e vi dico che comunque il tempo è galanduomo questo cosa vuol dire vuol dire che se sono rose fioriranno il comune di Morano o con noi o senza di noi perché come ben sapete è stato già detto prima ci saranno le elezioni amministrative quindi speriamo con noi ma se non è con noi spero che comunque ci sia una continuità a questo sport questo sport non è altro che unione e insieme si cerca di andare avanti noi abbiamo sempre questo notte che diciamo che insieme si può grazie a tutti grazie a lei grazie a tutti grazie a tutta la squadra che ci collaborerà ci ha collaborato e ci collaborerà per questo primo slalom del Pollino e ovviamente voi siete tutti quanti i nostri di partenza e l'amministrazione comunale sarà lì con la bandiera tricolore a dare il via a tutti questi giovani piloti che fanno parte della compagine moranese e anche castrovillarese anche questo l'unione di questi due territori secondo me è lo giusto spirito per andare avanti nel proseguo di queste manifestazioni e quindi una targa ricordo per l'amministrazione comunale ma io direi che questa targa è estesa a tutti quanti voi ragazzi che state credendo in questo progetto grazie 11 e 12 maggio tutti a Marano per il primo slalom del Pollino Coppa Città di Morano grazie 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 mentre questi intrepiti arrivederci signor Bruno mentre questi intrepiti sono qualifatti in sala è presente parliamo di 40 anni di storicità però c'è una persona che ha preso una decisione quest'anno è una persona che lo vediamo Calabria Sicilia lo vediamo dappertutto e ogni tanto io che sono in partenza con la telecamera sento un neopirillo di chi parliamo allora dalla Sicilia quindi da Palermo quest'anno hanno deciso di non rinnovare la licenza di organizzatore quindi appendono il birillo al chiodo possiamo dire così ma io sono sicuro che saranno sempre presenti nelle gare di chi manchiamo? la famiglia Cirrito vuole dare diciamo il saluto a tutti gli sportivi perché da quest'anno non saranno più licenziati agisporti quindi Nicola e Anna Maria Cirrito sul palco per una sorpresa che gli abbiamo già preparato ecco Nicola si sta avvicinando insieme alla signora generativo nelle gare perché siamo quasi alla fine di questa serata perché rimane solo la premiazione dei vingitori del Memorial quindi qui la sala si dovrà riempire di nuovo per i vingitori ma sicuramente parola a Nicola Cirrito per questo addio diciamo ma non è un addio Massimo non è un addio non lo so si è defilato poco si è defilato ci dirà lui che cos'è Massimo è facile e non lo è al tempo stesso ovviamente grazie per l'invito tuo della tua famiglia fatto di essere qui per noi è quasi una cosa normale non è vero che ci si defila mai da chi ha dedicato una vita a qualcosa mi diceva un sacerdote mi hanno comunicato parlavamo l'altro giorno che da una certa età non farò più il sacerdote ma io quello ho fatto nella vita e lo continuerò a fare nel mio cuore e nelle mie azioni noi le prime valiche da 40 anni ritorno a questo numero magico per certi versi abbiamo impersonato la nostra passione e in questa passione abbiamo coinvolto tante persone è stato facile perché è stato tutto molto immediato lo sport automobilistico è uno sport che non ama i front i fatti valgono più delle parole nello sport automobilistico e questo ci ha anche aiutato a essere come siamo se siamo riusciti ad essere delle persone buone in questo ci sono state delle figure che ci hanno insegnato tutto e a cui noi abbiamo attinto a piene mani uno di questi ovviamente è Vittorio Minassi e io il ricordo ma non solo il ricordo ho la presenza viva di Vittorio perché lui è stato e tu lo sei oggi Massimo questa è la cosa che mi piace forse di più anche se il team valichè per un semplice motivo di rispetto e lealtà nei confronti degli sportivi di tutti gli sportivi dei piloti ha deciso di come dici tu a prendere il brillo ma non solo il brillo al chiodo abbiamo dato spazio ad altri organizzatori a persone che ci hanno affiancato in tanti anni di lavoro siccome il tempo passa per tutti e per noi è passato abbiamo deciso di coinvolgerli in prima persona cioè far prendere la licenza a tanti amici che ci avevano semplicemente affiancato ma non per responsabilizzarli al di là ma per renderli partecipi al futuro perché ripeto il tempo passa e allora bisogna dare spazio ai giovani che devono essere anche aiutati in questo perché noi spesso critichiamo i giovani ma facciamoci anche da parte quando è il momento di metterci da parte perché i giovani possano avere il loro spazio per poi ritornarci qualcosa in termini di cose fatte non di cose parlanti detto questo chiaramente tu dirigi ancora le mie gare e le hai dirette fino a quest'anno Vittorio dirigeva le mie gare in Sicilia questo ci ha insegnato quando io ho invitato Vittorio a venire in Sicilia e lo ricordo personalmente Vittorio mi disse ma voi mettete il direttore di gara da ogni angolo della vostra terra Vittorio io voglio la tua direzione di gara perché credo che questo sud di cui tutti noi abbiamo parlato questo sud che ogni tanto viene bistrattato che tutti noi rivendichiamo come il nostro sud la terra dove sono nate le antiche tradizioni oggi si parla anche io per venire qui devo attraversare lo stretto e quando noi siciliani attraversiamo lo stretto la parola ponte ci viene in mente è inutile negarlo perché sarebbe qualcosa che ci legherebbe ancora di più ma io credo una cosa sono nato sulle Madonie la Targaflorio passava davanti casa mia quando io avevo zero anni io sentivo il rombo delle macchine guidate da Stirling Moss da Scarfiotti da Vaccarella semplicemente stando a casa mia non potevo appassionarmi al gioco delle bocce e necessariamente come Totorriolo che è nato qualche anno dopo di me a 20 km di distanza i nostri paesi Caltavutura eccetera distano 20 km dovevamo essere coinvolte dallo sport automobilistico ma prima di noi e prima di tutti di tutti veramente il ponte sullo stretto l'ha fatta una persona di cui oggi noi siamo onoratissimi di citare nel 1906 un calabrese un calabrese fece il ponte si chiamava Vincenzo Florio lui era le sue origini erano calabresi si trasferì in Sicilia con la sua famiglia e creò quel ponte che non fu fatto di ferro di cemento di alluminio creò un ponte di imprenditoria e coraggio Vincenzo Florio per 50 anni ha riempito il Mediterraneo il sud la Sicilia la Calabria di opere tutti noi ancora andiamo alla posta la inventò Vincenzo Florio con le sue navi andiamo a prendere il traghetto della Tirrenia o della Caronte le inventò le creò Vincenzo Florio con la sua flotta mercantile apriamo la scatoletta di tonno Vincenzo Florio creò le tonnare e le tonnare non si fanno a Milano a Trento o a Pavia con tutti i rispettori per queste città grandiosi spettacolari le creò Vincenzo Florio e ce ne sarebbe da mettere creò la targa Florio quando lui pensò di creare la targa Florio di fare una corsa sulle Madonie a parte che le strade erano trazzere tutti sappiamo cosa significa trazzere in Europa c'erano 58 macchine in Europa la Sicilia era al fondo dell'Europa lui decise di andare a Parigi e invitare chi voleva venire a correre in Sicilia con la sua macchina alla prima targa Florio nel 1906 chi possedeva le vetture alcune delle 58 erano i grandi imprenditori erano le grandi famiglie che avevano la ricchezza che avevano l'automobile e la sua mossa vincente fu quella invitò in Sicilia qua 20 macchine la prima targa Florio partinano 22 macchine ma erano quelli che avevano in mano le sorti economiche le redine dell'Europa li portò in Sicilia e dalla Sicilia la sua opera si irradiò verso l'Europa e quindi il primo ponte vero della Sicilia e dell'Italia e del nostro sud la fece Vincenzo Florio assieme a suo fratello Ignazio quindi Calabria e Sicilia sono unite non si discute di fatto sono unite di fatto noi siamo estasiati no ma è la verità perché insomma in 70 anni di appartenenza a questo nostro mondo veramente per me è stato un orore portare a conoscere tanti amici della Sicilia per lo splendido territorio della Calabria e tanti amici calabresi giù in Sicilia con la scusa della gara per stare assieme due o tre giorni e giustamente io faccio un percorso a ritroso caro Massimo tu ancora oggi fino a dicembre hai detto le mie gare e quando affido a te le mie gare è come dormire tranquillo la notte prima te lo dico in maniera spacciata perché è così ma devo fare un passo che va più indietro quando io nell'85 perché è legato a questo territorio la mia presenza conoscenza di questi nell'85 sono venuto a correre con la mia macchina da corsa in mezzo a tanti piloti piccolo piccolo mi faccio però la mia storia con la famiglia Vinasi e con il Pollino e con Morano comincia da qui nell'85 venne a correre per la prima volta la corsa del Pollino e fece l'iscrizione un certo signor Vittorio Vinasi direttore di gare mi disse beh tu insomma quando arriverai io non conosco disse al direttore di gare il territorio non ti preoccupare quando tu arrivi mi avvisi che io ci sarò vabbè io zero problemi non esistevo di telefonini all'85 andai a Morano partì per Morano Vittorio Vinasi che io non conoscevo mai visto mi aspettava all'uscita dell'autostrada mi fece segnale io con la mia macchina da corsa al traino e mi fece segnale di seguirlo io lo seguì ma la cosa che mi stranizzò fu che non andavamo camminando verso un percorso verso una strada che io mi aspettavo di vedere la corsa del Pollino era una strada del Pollino andavo in paese rimasi un po' ma come sta corsa parte dal paese nella mia mente sto raccontando qualcosa che è avvenuto 40 anni fa nell'85 e niente non dissi niente ci fermavamo sotto una casa era la casa di Vittorio era la casa di Vittorio io non dissi nulla per educazione perché non c'era la confidenza Vittorio mi disse figlio mio però scendendo la macchina mi disse ma la gara parte da qui no dice per la gara poi vediamo questa è casa mia tu figlio mio figlio mio signori signora figlio mio figlio e dava un significato grande figlio mio hai fatto 400 km questa macchina ora ti fermi scendi e ci andiamo a prendere una cosa bene Vittorio quella mattina mi offrì un caffè e latte alle 8 di mattina vi giuro che dopo 40 anni il sapore di quel caffè e latte io non l'ho dimenticato grazie veramente spazio da questo discorso e però vedo qualcosa qui di interno di particolare Massimo non è la solita tarca non è sono i 40 anni di Asia che sto castrovillari abbiamo voluto mangiarvi per una teiera per degustare il tè e per riposarvi da questo mondo delle gare perché è giusto insomma che sia così e quindi è un pezziero speciale che ricorda i 40 anni dell'ASA ecco che cosa offriamo come ASA castrovillari al team paliche e a ben rivederci così così di cosa si ricorderà del caffè e latte adesso c'è qualcosa ovviamente sì a noi piace vendicarci Massimo questo sono i 40 anni di cui tutti noi parliamo ma sono soprattutto i 40 anni dell'ASA castrovillari grazie 40 anni di lealtà sport e passione che tu invece rincontrerai quest'anno a partire da sicurezza che verrà il lice quindi anche da parte della vicenda di corso e grazie quindi anche alla vicenda di corso per essere stata presente qui grazie grazie signora e adesso consegniamo le targhe ai ragazzi e dobbiamo volare con la premiazione in questo momento siamo alla fine siamo veramente alla fine innanzitutto ringrazio in sala ho visto tanti ufficiali di gara che sono in attività ma che non sono più in attività vedo Franca Aragona vedo Alberto Castagna ma volevo ringraziare un pilota socio fondatore dell'ASA Castrovillari che ha corso dalla prima edizione della cronoscalata ma è un premio speciale e voglio qui sul palco Giuseppe Chiodi ce la faremo ce la faremo tranquilli ecco qua vieni Giuseppe vieni questo Filuccio Chiodi ha contribuito a costituire l'ASA Castrovillari e quindi era giusto per i 40 anni dargli una targa come pilota socio fondatore dell'ASA Castrovillari parla che consentirai verosamente grazie grazie Giuseppe di vero buone per esserci stati vigini per tutti i 40 anni nel cadena 41 giustamente perché lui rappresenta il primo è normale bene bene Massimo allora andiamo nel vivo della previazione so che hai deciso di segnare tre premi speciali tre premi speciali il primo va a sesto memorial vittorio minasi coppa autostoriche loris martino questi tre sono stati dati sono stati no è perché allora loris aspetta un attimo perché dobbiamo partire da la scaletta ok allora io lo volevo tenere per ultimo ma non per altro perché è un pilota primo avendo il memorial vittorio minasi come pilota polivalente Ottaviano perché Ottaviano ha partecipato sia alla regolarità autostorica e sia alla specialità slalom bettando riceve il pilota fa anche salita ti manca il rally il kart e tutte le altre specialità per arrivare a totò riolo grazie attiviamo grazie adesso sempre loris martino che viene qui invece sarà premiato come pilota autostorica perfetto quindi aspettiamo la coppa del pilota autostorico e dell'under 23 che ritira sempre loris martino grazie loris assoluta sesto memorial vittorio minasi terzo classifica allora questa è la classifica speciale del memorial riservata a coloro i quali hanno partecipato alla regolarità autostorica e anche alle parate degli slalom e quindi terzo classificato Vincenzo Berardi su Fiat 128 sculeria spazio Vincenzo prego può ritirare il tuo premio senza navigatrice terzo classificato Vincenzo Berardi su Fiat 128 voglio rimanere qui secondo classificato Fabio Sangineto Volkswagen Golf GT spazio 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 premiamo pure il terzo sì però qui dobbiamo aspettare quindi premiamo prima Fabio Sangineto secondo assoluto ecco adesso io Massimo gradirei magari la signora Minasi possiamo chiedere a lei di salire sul palco sì signora ecco perché abbiamo chiamato la signora Minasi perché chiamiamo per la vittoria della dell'assoluto del memore al vittorio Minasi chiamiamo Zigarin Giuseppe su Volkswagen Gold GT della scuderia Spark premia la signora Marcella Minasi presidente aspettiamo lei il ritardo come al solito allora premia abbiamo quindi non possiamo puoi andare tranquillo e comodato ecco questo è il podio dell'assoluto del sesto Memorial Vittorio Minasi Massimo è tutta te per saluti valide eventuali sì allora a questo punto con la premiazione finale e l'attribuzione del Memorial Vittorio Minasi si chiude questa serata ci diamo appuntamento sui cambi di gara un grazie di cuore a tutti coloro i quali sono stati presenti e possono passare dalla segreteria per ritirare l'attestato di partecipazione ma prima di finire dare la fine alla manifestazione e quindi uscire dalla sala per poi andare a degustare un buffet di prodotti tipici e di dolci con anche lo spillatore del prosecco una targa e un premio saluta lo chiamo il berone dei paoli no c'è il prosecco e ci sono i dolci quindi il parole non va via grazie a tutti quanti coloro sono stati presenti ma un premio speciale va al nostro speaker d'eccezione e quindi alla famiglia di Renato Bruno ma lui personalmente va alla nostra targa come speaker ufficiale Asa Castrovillari Renato Bruno e un grosso applauso a Rattorello che è lì dietro la camera che fa il lavoro per tutti noi e grazie a sport e foto ci vediamo sui campi di gara grazie a tutti grazie Massimo sono onorato di mettere nella mia pacheca anche questa parga ricordo dell'Asa di Castrovilla prima dei campi di gara ragazzi 23 marzo in totale premiazione Challenge Calabria grazie a tutti quanti